Danny è molto forte, Thomas mangia tanto, io so fare tutto il resto delle cose e poi c'è Giorgio Ma tu cosa sai fare? Potrei ballare Il tiktoker Io vado già a casa Che bella domanda però Stupisco Vado avanti So fare tante cose So dire i suoi gli scioglilingua velocemente Forse però Pietro potrà proteggerci Forse però Pietro potrà... Aspetta Sono io? Mi avrebbe già convinto Magia Questa qua è magia Io mi occupo di tecnologia Forse però Pietro potrà Aspetta Sicuramente possiamo dire che dispongo di un'ottima proprietà linguistica La guida inoltre sono decisamente superiore a qualcun altro Non facciamo commenti del parcheggio Io direi che si sta sbilanciando un po' troppo Nel suo caso più che sbilanciare direi sbilanciere